Signore e signori, buonasera e benvenuti in questa magica serata salernitana. Buonasera e benvenuti a Casa Charno. Guarda stelle, guarda, in questo mare di stelle, ti perderò con te. Oh, c'è un po' buona. Pronto? Casa Charno. Ah, e dove, e dove ogni peta? Diciamo niente. Oh, e chiedo scusa, vieni, continua, continua. E' pronto, Peppe Iodice. Sì. Un saluto dal premio Charno, Casa Charno. Ciao Peppe e tanti auguri per il tuo compleanno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Senti, ma lo sai che questa sera c'è un ospite importantissimo che viene da Torino? Si chiama Gonzalo? Ah, va la p***a di due. Che bello è, quando esco di casa, per andare allo stadio a vedere Granata. Viamo lì, ciao. A Casa Charno è bene. No, 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 no. No, 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 no Grazie.